Oggi è un giorno importante in cui in tutto il mondo giovani e non giovani manifesteranno ma soprattutto la radicalità, i giovani che capiscono che il futuro è a rischio, è a rischio per loro e credo che l'elemento che ha fatto scattare questa capacità di Greta di intuire la radicalità dei problemi e la necessità di un approccio radicale per affrontarli è l'elemento che contraddistingue queste mobilitazioni l'aspetto importante è che non deve essere una grande fiammata che poi si spegne ma deve essere un incendio che poi si propaga perché è l'unica possibilità che abbiamo di affrontare veramente la sfida climatica.